Si continua a procedere a rilento sulla statale 121 la paterno Catania a causa di un'interruzione di corsia a determinare i problemi e un incidente avvenuto ad inizio mese. Fiocco Rosa ad Adrano, dopo quasi 30 anni oggi in zona Corso Sicilia, una giovane mamma non è riuscita a raggiungere in tempo l'ospedale appartorito in auto. I reghisti arrivano anche a Paternò, nominati Vito Palumbo e Lucia Magnano, referenti del partito di Salvini per la città di Paternò. I consiglieri comunali Guido Condorelli e Giuseppe Lopresti hanno proposto un ricorso al TAR in quanto sostengono una mancata applicazione del regolamento in occasione dell'approvazione del bilancio avvenuta l'1 dicembre scorso. Ha fatto tappa ad Adrano il concorso Coppa della Legalità promosso da Libera Impresa e dall'Associazione Nazionale Magistrati ad incontrare gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura Bredetto Radice, tra gli altri il magistrato Antonio Nicastro. E' stato denominato We Are Smarter Than Technology, il progetto Erasmus che vede coinvolti gli studenti di sei nazioni, oggi incontro con il sindaco a Palazzo Alessi. Buonasera e ben trovati dalla redazione di Ciac News. Si continua a procedere a rilento sulla Statale 121, la Paternò Catania, a causa di un'interruzione di corsia a determinare i problemi di un incidente avvenuto ad inizio mese. Sentiamo. Nonostante siano trascorse due settimane dalla grave incidente avvenuto sulla Statale 121 sulla corsia di marcia Catania-Paternò, determinando, oltre a diversi feriti, anche danni consistenti allo spartito traffico centrale, per ripristinare e rimettere in sicurezza il guardrail non è stato effettuato ad oggi nessun intervento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Traffico in tilta tutte le ore del giorno all'uscita da Paternò con a code chilometriche per quanti sono diretti alla capoluogo etneo. Il motivo delle code è determinato dal fatto che si cammina per una porzione di strada di qualche centinaio di metri su un'unica corsia e non più su due. Questo perché dopo il violento impatto avvenuto lo scorso 5 febbraio di un camion finito violentemente contro il guardrail centrale, la struttura si è spostata dalla sua posizione originale. In pratica una porzione di spartito traffico, dopo l'impatto del camion, è fuoriuscita sulla corsia di marcia Paternò-Catania, invadendo parte della corsia di sorpasso e diventando così un concreto pericolo per quanti percorrono l'asse viario. Per ridurre il pericolo l'ANAS ha quindi deciso di impedire il transito su quel tratto viario, riducendo, come detto, le corsie di marcia da 2 a 1. Ma questo non riduce il pericolo, anzi, può rappresentare un ulteriore elemento di pericolosità per eventuali possibili tamponamenti. Nonostante vi sia ampia segnaletica che annuncia la riduzione di corsia, il flusso viario è talmente intenso che l'intasamento è praticamente costante in ogni momento della giornata, con ripercussioni anche all'interno di Paternò con code all'uscita dalla città tra Corso Italia e via Vittoria Emanuele. Si auspica un intervento tempestivo dell'ANAS per riuscire a sanare quella che resta al momento una ferita aperta. Interventi occorrono per la viabilità siciliana, interventi che la politica sembra non vedere. Si facevano ridare parte dello stipendio dalle commesse impiegate nei loro negozi nel centro commerciale Etnapolis a Belpasso alle porte di Catania, minacciandole di non assumerle se erano in prova e di licenziarle se il contratto già lo avevano. Per questo la Cassazione ha confermato la condanna per estorsione, la cui entità non è precisata nei confronti di Pietro e Paolo Giunta, due imprenditori che avevano punti vendita di marche affermate e che con il ricatto occupazionale avevano costretto cinque commesse a restituire solo l'oro tutti i mesi dall'aprile del 2006 all'aprile del 2013, somme che variavano dai 300 ai 500 Euro. È il lieto evento movimentato oggi in zona Corso Sicilia, ad Adrano. Una giovane mamma non riesce a raggiungere in tempo l'ospedale e partorisce in auto. sul posto personale del 118 che dopo aver tagliato il cordone umbilicale e persato le prime, i primi soccorsi portano mamma e figlia in ospedale. Stanno entrambe bene, Fiocco Rosa, ad Adrano, dopo quasi 30 anni. Alla fine c'è stato il lieto evento. Una bella bambina è nata questa mattina ad Adrano, in maniera un po' rocambolesca ma sta bene. Un Fiocco Rosa, un po' avventuroso, che aveva creato un certo allarme nella zona di Corso Sicilia ad Adrano. E' accaduto questa mattina intorno alle 9.30. Una giovane donna romena improvvisamente capisce che è arrivato il momento di partorire e allora si precipita in auto con il marito per recarsi in ospedale. Ma la piccola ha fretta di nascere e non c'è più tempo per recarsi in una struttura sanitaria. L'auto si ferma. A questo punto viene lanciato l'allarme richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118. La bambina viene alla luce in macchina. Sono momenti concitati ma sul posto è arrivato il personale sanitario. Un medico, un infermiere e un autista soccorritrice della postazione del 118 di Adrano. Bisogna intervenire subito ed è il medico del 118 a tagliare il cordone umbilicale. Quindi vengono prestate sul posto le cure necessarie alla piccola e alla giovane mamma che poi vengono trasportate con l'ambulanza all'ospedale di Biancavilla. Mamma e bimba stanno bene. Un lieto evento, un po' movimentato, un fiocco rosa che da quasi 30 anni non si registrava nella città di Adrano. Tanti auguri alla piccola e ai suoi genitori. Gravissimo incidente stradale nella notte a Noto in provincia di Siracusa dove sono morti due ragazzi di 16 anni e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco. I due giovani erano insieme in sella a uno scooter quando si sarebbero scontrati con un'auto in via Maria Montessori, non lontano dal commissariato di polizia in pieno centro abitato. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che si sarebbe verificato poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, Manuel e Gabriele erano usciti insieme per trascorrere la serata e stavano facendo rientro a casa quando a un incrocio si sarebbero scontrati in maniera violenta con una vettura. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. I leghisti arrivano anche a Paternò, nominati Vito Palumbo e Lucia Magnano, referenti al partito di Salvini per la città di Paternò. Sentiamo. Si infittiscono le maglie verdi della Lega anche in Sicilia con la creazione di una fitta rete di riferimenti locali e mentre il vice premier è in piena campagna elettorale in Sardegna dove spera di ottenere gli stessi risultati delle ultime competizioni elettorali regionali in Abruzzo, il suo partito sbarca anche a Paternò. Fabio Cantarella, responsabile enti locali per la Sicilia, Anastasio Carrà, responsabile enti locali per la provincia di Catania, hanno affidato il compito di organizzare il partito nella città di Paternò a Vito Palumbo e Lucia Magnano. Si tratta di volti già noti alla politica paternese. Vito Palumbo è stato segretario di Paternò On, movimento politico che aveva appoggiato la candidatura del sindaco di Paternò Nino Naso alle ultime elezioni comunali. Lucia Magnano, di professione commercialista, si era invece candidata a sindaco di Paternò nel 1997 con il partito siciliano d'azione, elezioni che poi vinse Graziella Ligresti. In quell'occasione la Magnano prese 698 voti dal partito, di cui 641 personali. Vito Palumbo è quindi il nuovo responsabile enti locali per Paternò e Lucia Magnano e la sua vice. Entrambi hanno infine rivolto un pensiero di ringraziamento al senatore Stefano Candiani e Fabio Cantarella e Anastasio Carrà. Siamo loro grati per la fiducia accordata, ci hanno concluso, non vediamo l'ora di metterci al lavoro. Restando sul pezzo e dunque sulla politica paternese, cala il silenzio per quel che riguarda le nomine dei due nuovi assessori. Giorni fa voci ufficiose davano i nomi di Vito Rau e Giuseppe Gentile come papabili alla carica, ma il passare del tempo, senza che nessuna nomina sia avvenuta, lascia dubbi su eventuali ripensamenti. Tentato furto all'Istituto Tecnico Economico di Paternò, i carabinieri della compagnia nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio hanno notato una persona che stava tentando di portare via due televisori da 55 pollici appartenenti alla scuola. Alla vista dei militari dell'arma, il ladro ha abbandonato a un'area furtiva ed è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. I carabinieri hanno recuperato i televisori, restituendoli alla struttura scolastica e sempre i carabinieri di Paternò sono riusciti a dare un volto ad un nome al 17enne paternese che alla fine dello scorso mese di gennaio, dopo essere entrato all'interno della scuola, stava tentando di rubare senza riuscirci. Il giovane è stato denunciato. Ebbene adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. A dopo. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. In questo periodo da Energreen Power, grande offerta d'autunno. Impianto fotovoltaico 3 kW chiave in mano, 3450 euro più IVA 10%. Impianto 4,5 kW più batterie, accumulo 4,8 kWh, offerta chiave in mano, IVA inclusa a 9.900 euro. Impianto 6 kW più batterie, accumulo 5,5 kW, offerta chiave in mano, IVA inclusa a 13.900 euro. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, contrada a Tre Fontane e Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che riapriamo ancora con la politica. I consiglieri comunali Guido Condorelli e Giuseppe Lopressi hanno proposto un ricorso al TAR in quanto sostengono una mancata applicazione del regolamento in occasione dell'approvazione del bilancio avvenuta l'1 dicembre. Nonostante siano passati quasi tre mesi dall'approvazione del bilancio, continuano le polemiche politiche promosse da parte dell'opposizione sull'ammissione o meno degli amendamenti durante la seduta del 1 dicembre, durante la quale il Consiglio Comunale fu chiamato ad approvare il bilancio di previsione 2018. Una questione sollevata in particolar modo dai consiglieri Giuseppe Lopresti e Guido Condorelli che sul punto hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo. Quando il 1 dicembre venne proposta l'approvazione del bilancio noi dai banchi dell'opposizione proponemmo l'applicazione del regolamento che prevedeva che il bilancio si votasse otto giorni dopo la presentazione dell'ultimo emendamento che era stato peraltro proprio un emendamento dell'opposizione. In quel momento ci fu detto che il regolamento non era applicabile e che pertanto era possibile votare il bilancio quel giorno stesso. Ebbene oggi il TAR ci dice una cosa completamente diversa e il TAR infatti si occuperà della questione relativa al bilancio attraverso un ricorso che è stato proposto da noi consiglieri comunali di opposizione attraverso un importante studio legale, ci rappresenta infatti l'avvocato Cesare Caruso e riteniamo che in quella sede finalmente si possa stabilire quanto è importante il rispetto delle regole, il rispetto dei regolamenti piuttosto che l'esigenza che poi è sempre quella, è un gioco vecchio, un gioco che conosciamo. Mancata applicazione delle regole denunciata dal consigliere Condorelli che punta dritto alle responsabilità dell'amministrazione. Sicuramente era un ricorso necessario, necessario perché dobbiamo riuscire a far comprendere che le leggi non sono un optional, non possiamo permetterci di sorpassare le leggi, soprattutto in un atto fondamentale come può essere il bilancio. Dal bilancio nascono tutte quelle situazioni che possono far progredire il Paese. Sorpassando queste leggi, non permettendo il buon funzionamento delle regole, dall'ordine si passa al caos e visto che il caos non può portare altro che distruzione, ci ritroviamo nelle situazioni di oggi a chiedere al TAR semplicemente i nostri diritti, quei diritti che purtroppo sono stati più volte calpestati. Un calo delle temperature anche di 8-10 gradi è quanto è previsto per il prossimo fine settimana al sud e nel medio versante adriatico a causa di un'intensa ondata di freddo che interesserà principalmente Russia, Ucraina, Grecia e Balcani. Se in questi paesi, spiega il meteorologo di trebimeteo.com, Edoardo Ferrari, si attende a un tracollo termico con rovesci di neve anche in pianura. Marginalmente interessata dalla perturbazione sarà pure l'Italia, in particolare il meridione e le regioni centrali adriatiche, dove si potrà avere qualche locale rovescio, nevoso, anche a quote basse. Un deciso calo delle temperature sotto sostenuti venti di gregale. E ha fatto tappa ad Adrano il concorso Coppa della Legalità, promosso da Libre Impresa, dall'Associazione Nazionale Magistrati, ad incontrare gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura, Benedetto Radice, tra gli altri il magistrato Antonio Nicastro. Nuovi incontri nell'ambito del concorso Coppa della Legalità, promosso dall'Associazione Anti-Racket e Anti-Usura, Libre Impresa, dall'Associazione Nazionale Magistrati di Catania e dalle Forze dell'Ordine. L'iniziativa giunta alla sesta edizione, questa mattina ha fatto tappa ad Adrano, precisamente all'Istituto Professionale per l'Agricoltura Benedetto Radice. Un incontro significativo, una sorta di lezione sulle legalità, che ha coinvolto gli studenti, che hanno interagito con i relatori. Alla fine dei sei incontri in scuole del Catanese, i ragazzi sono chiamati a presentare un elaborato sul tema della legalità, affrontato durante i vari incontri. La scuola è premiata, si aggiudicherà appunto la Coppa della Legalità. Novità dell'edizione di quest'anno, il premio che verrà assegnato al singolo studente, il cui elaborato verrà giudicato, meritevole. All'incontro di oggi, oltre che studenti e docenti del Benedetto Radice, hanno partecipato il maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, Vincenzo Monarca, della Compagnia di Paternò, la dottoressa Grazia Iellamo, della DIA di Catania, Rosario Cunso, lo presidente di Libera Impresa, e il magistrato Antonio Nicastro. Dottore Nicastro, uno studente che ha fatto una domanda specifica, perché non dobbiamo pagare il pizzo? Siamo qui come Associazione Nazionale Magistrati, ad Adrano, per ricevere domande come queste, e per dare delle risposte. Il pizzo non bisogna pagarlo perché il pizzo è sopraffazione, è negazione del diritto. Noi dobbiamo inculcare in questi ragazzi il messaggio che bisogna lottare, ognuno con le proprie forze, ognuno con le proprie capacità, per poter affermare i nostri diritti. Il dibattito che c'è stato oggi ci ha mostrato una piena consapevolezza dei ragazzi che effettivamente sanno quali sono i loro diritti, sanno anche quali sono i loro doveri. Io sono contento tutte le volte che partecipo ad incontri come questo perché trovo delle nuove generazioni consapevoli. Un ragazzo mi ha chiesto ma la mafia finirà prima o poi? E la certezza che la mafia finirà passa da messaggi come questi. Il pizzo non si paga perché il pizzo è negazione della nostra coscienza e della nostra libertà. Poi hai detto una cosa importante, non conviene più essere mafiosi. E non conviene essere mafiosi perché vieni seppellito da anni di carcere, perché il tuo patrimonio viene assolutamente assorbito dallo Stato con le misure di prevenzione patrimoniali e alla fine della fiera tu sei povero, pazzo, in galera e senza una lira. Dottore, hai espresso in maniera molto bene il concetto di fiducia, ha detto non ci arriva con una bacchetta magica. La fiducia, la credibilità non arriva, non c'è nessuno che ti dà la fiducia, il tuo patrimonio di fiducia. La fiducia e la credibilità te la devi conquistare giorno per giorno nella consapevolezza che la perdi in un attimo. La Coppa della Legalità ritorna ad Adrano, vogliamo ricordare come è strutturata questa iniziativa? Sì, questa è la sesta edizione e questo è il terzo appuntamento dei sei appuntamenti che sono stati previsti nella provincia etnea. È un concorso legato alla legalità e un concorso dove quest'anno, per la prima volta, abbiamo previsto anche una borsa di studio individuale per i ragazzi del valore di 250 euro. Quindi il giorno 23 di maggio li accoglieremo presso il tribunale e vedremo chi vincerà quest'anno la Coppa della Legalità e il concorso dove c'è la borsa di studio. Quindi per la prima volta, oltre che la scuola, viene premiato anche il singolo studente. Come? Cosa deve fare il ragazzo? Fare un elaborato di quello che noi oggi abbiamo parlato qui, di quello che abbiamo visto, delle informazioni che hanno acquisito, da come si deve andare avanti per continuare verso la legalità. Ecco, questo è il percorso che noi ci siamo messi come obiettivo e i ragazzi svilupperanno sicuramente qualcosa di interessante. Incidente nel primo pomeriggio di oggi alle 13.30 circa, in via Garofalo, a Belpasso, poco distante dallo stadio comunale, dove le auto coinvolte in uno scontro frontolaterale, una Peugeot 206 ed una Kia Revenage. A causa dell'impatto, la Kia è cappottata parzialmente su un fianco, ferito il conducente della Kia, un ventenne di Belpasso portato al Cannizzaro di Catania. Sono in corso accertamenti per valutarne le condizioni. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Belpasso ed i vigili del fuoco di Paternò, da accertare ancora la dinamica. Ed è stato denominato We are Smarter Than Technology, il progetto Erasmus, che vede coinvolti gli studenti di sei nazioni. Oggi il sindaco Nino Naso ha dato il benvenuto agli ospiti a nome della città. Vediamo. Una settimana da trascorrere a Paternò per un progetto Erasmus Plus dal titolo We are Smarter Than Technology, un progetto di durata BNL dal 2018 al 2020 che coinvolge gli studenti di scuola superiore di sei nazioni, Italia, Turchia, Norvegia, Slovacchia, Macedonia e Romania. Scopo del progetto? Veicolare le competenze digitali oltre quelle della cittadinanza europea per far acquisire agli studenti consapevolezza degli aspetti dannosi dell'uso degli apparecchi elettronici. Un percorso di approfondimento che è servito anche per visitare i luoghi simbolo del comprensorio etneo e non solo. Come si sono trovati in questi giorni in Italia, particolarmente in Sicilia, a Paternò che impressioni hanno avuto della nostra gente, che atmosfera hanno respirato nella città? Respira un'atmosfera molto amichevole, quindi gli piace molto, non è la prima volta che è qua, è la terza volta, si sente a suo agio sia con i docenti che con i ragazzi, con tutto quello che ha avuto a contatto fino adesso. Rispetto alla scuola macedone, quella italiana, che impressioni ha avuto anche nei ragazzi, l'approccio con i ragazzi, il rapporto che c'è tra docenti e studenti? La parola chiave è connection, il collegamento che c'è fra gli studenti nostri e gli studenti loro è eccezionale, anche fra insegnanti di varie nazionalità e hanno avuto modo di respirare un'aria proprio piacevole in questi giorni che sono stati qua. A dare il benvenuto questa mattina a Palazzo Alessi alla delegazione di studenti e docenti dei sei paesi coinvolti, il sindaco di Paternone Nonaso insieme alla presidente della commissione pubblica istruzione, Barbara Conigliello, e al consigliere comunale, Francesca Chiri Eleison. È una bella soddisfazione, io devo ringraziare le scuole, noi non abbiamo fatto mai differenze tra scuole superiori o scuole dell'obbligo, questa amministrazione, devo dire, che interagisce benissimo con quelle che sono le istituzioni scolastiche del nostro territorio. Oggi, come vedete, sono accompagnato dal consigliere Conigliello e dal consigliere Chiri Eleison. Abbiamo veramente rappresentato bene la città di Paternone. Non è il primo incontro che facciamo, ma vogliamo che chi viene nella nostra città porti dei bei ricordi. e devo dire che è stato anche questo un incontro importante. Veramente ringrazio il liceo scendico, questo progetto Erasmus, ma l'amministrazione è presente nel territorio, le scuole si devono interfacciare con l'ente locale. Veramente, si respira aria di Europa. E Paternone non ha niente da invidiare alle altre, magari, città più grandi per far sentire ecco la presenza. Noi abbiamo tanti progetti in campo, anche a livello europeo avete visto il Life e tanti altri e vogliamo mettere la qualità dei Paternesi. Crediamo nella nostra Paternone e questi sono degli appuntamenti che non possiamo perdere. Ebbene, prima di chiudere, edizione di questo telegiornale, ancora un'ultima notizia. Padre Pasquale Randazzo è tornato alla casa del padre, primo parroco della comunità paternese. Per molti anni punto di riferimento nel quartiere Coniglio con la cura dei fedeli della chiesa di San Giovanni Bosco padre Randazzo si è spento questa notte. I funerali verranno celebrati giovedì prossimo alle ore 16.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco a Paternone dal vescovo di Catania Monsignor Salvatore Grissina. Ed è tutto per questa edizione io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci. a presto 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 che a presto 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 a